Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi qui ritorniamo a parlare di GamesGo.pro una piattaforma che ti offre ottimi servizi per risparmiare veramente risparmiare soprattutto anche su Spotify perché se compri Spotify a 9,99€ più lo sconto quindi il codice promozionale mettete questo sconto per esempio codice promozionale io metto questo CTRL V applicare lo applico 9,79€ per 3 mesi ascolti musica senza pubblicità non solo c'è Spotify ma c'è anche Disney Disney 24€ più questo codice promozionale inserisci il codice promozionale 24,49€ centesimi per 12 mesi quindi un anno intero ha solo i 24,49€ ti daranno così un account condiviso e potrai vedere tutto quello che c'è su Disney Plus ora esco un attimo da questo account affiliato vado sul mio account principale dove ho comprato alcuni abbonamenti per esempio ho comprato Paramount Plus a 2,93€ c'è anche il video in alto a destra ok eccolo qua vado su abbonamento come puoi vedere io qui ho un abbonamento di Paramount Plus come ho detto c'è il video se non ci crede a questa cosa guarda quel video dove io compro Paramount Plus e che faccio pure l'accesso e poi c'ho pure Netflix Tempo Residuo 100 giorni io avevo Netflix da 124 giorni il primo mese l'ho comprato e i tre mesi me li hanno regalati e qui mi dice di utilizzare il secondo profilo quindi se ti va veramente di risparmiare su uno di questi servizi Netflix, Spotify, Premium, Disney Plus, Paramount altri servizi dove ascoltare musica HBO Max e se fai il rinnovo puoi ottenere anche Prime Video a solo 2,67€ quindi compra un servizio usalo per un mese fai il rinnovo ti daranno così il VIP e potrai anche prendere Prime oppure Office 365 che è veramente una favola quindi se questo video ti è stato utilissimo e se ti è più comodo usa il mio link affiliato più il codice sconto su uno di questi servizi e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao